La Penne Mare si farà, un asseviario strategico a scorrimento veloce che collegherà le aeree interni alla costa partendo dal primo lotto funzionale Penne Passo Cordone sul territorio di Loreto Aprutino, 6 km in tutto con 4 svingoli già individuati e finanziamenti già disponibili per oltre 64 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo ha detto il Presidente uscente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, oggi rieletto al Consiglio regionale nel corso della conferenza stampa indetta per ufficializzare il finanziamento assegnato dal MIT lo scorso 21 marzo. Presenti anche il Sindaco di Penne Gilberto Petrucce e il Consigliere regionale Leonardo D'Addazio. Un'opera attesa a 40 anni è stato ribadito. Sì, siamo partiti dalla sanità con la riclassificazione dell'ospedale San Massimo e l'avvio dei lavori, lo sviluppo economico con la costituzione del Polo dell'Alta Moda e quindi l'arrivo di imprenditori importanti come Brunello Cucinelli e oggi con questa iniziativa straordinaria di costruire la Penne Mare diventa quindi finalmente realtà, un primo lotto importante e significativo che darà vita soprattutto alle aree interne dell'area Vestina. Dunque il Sindaco Petrucce ha detto un cerchio che si chiude con questa infrastruttura? Assolutamente sì perché nell'area Vestina c'è stata un'accelerazione negli ultimi tempi su tutti gli argomenti che sono più a cuore dei cittadini. Mancava il discorso sulle avviabilità per avvicinare la zona Vestina sempre di più alle aree metropolitane quindi all'area costiera e questa opera che si aspetta da 40 anni ormai diventa diciamo realtà. Quindi sono finiti i tempi diciamo delle chiacchiere e sono arrivati i tempi dei fatti. In questi cinque anni abbiamo lavorato come governo bene e abbiamo avuto anche la fortuna che i cittadini hanno riconosciuto questo immenso lavoro e ci hanno confermato alla guida della regione Abruzzo. Fondi del Ministero? Tramite MIT Anas sono arrivati a 64 milioni, questi 64 milioni serviranno a utilizzarli per il tragitto che va dal contrato a Blanzano a Penne fino a Passo Cordone e poi ci sarà anche un secondo tratto che sarà fatto in seguito. Grazie a tutti.